Fratelli e sorelle nero azzurro e buon pomeriggio a tutti, eccomi qui a fare il video per l'arrivo di Conte benvenuto Antonio Conte e per rispondere a qualcuno che ha detto qualcosa di troppo allora parliamo innanzitutto degli sbiaditi che stanno facendo i pazzi dicendo adesso invece che vi piace adesso è un grande prima era un truffatore era un dopato era qua era là ragazzi Antonio Conte è un professionista e come tutti i professionisti ha avuto la possibilità di venire ad allenare l'Inter che ha un progetto che ha un qualcosa da costruire di grande ma chiunque l'avrebbe fatto soprattutto a quelle cifre parliamoci chiaro non ci prendiamo in giro e non siamo ipocriti perché è così poi per quanto riguarda i tifosi interessi che dicono Antonio Conte vai via Antonio Conte non ti vogliamo Antonio Conte di qua Antonio Conte di Rubentino no ragazzi perché non è che qualsiasi persona che passi dalla società Juventus significa che resta Juventino a vita e significa che è proprietà loro quando mi venite a dire state diventando la succursore della Juventus cari ragazzi miei quanti giocatori sono passati dall'Inter alla Juve e viceversa Trapattoni ha vinto i migliori scudetti con l'Inter dopo essere stata la Juve ma di che cosa stiamo parlando? e ce lo ricordano tanti altri giocatori ma non vuol dire che qualsiasi persona passi dalla Juventus sia proprietà vostra questo è chiaro? è chiaro o non è chiaro? adesso Antonio Conte allena l'Inter è l'allenatore dell'Inter e finitela con questi discorsi del cavolo sempre gli stessi discorsi e comunque volete insultare volete offendere volete dire che siamo la succursore della Juve volete dire che vi copiamo? ragazzi avete rotto le scatole potete dire qualsiasi cosa quello che volete se volete la guerra la guerra avrete perché la dovete finire e poi non mi venite a dire che io vi provoco che io vi offendo che io vi insulto perché non state facendo altro che venire sulla mia pagina a rompere le scatole su questa situazione che è una situazione della quale io sono contentissima perché ricordatevi una cosa cari amici sbiaditi i vostri dolori sono le mie gioie avete capito? e le gioie di tutti i tifosi interisti per tutti gli scudetti che ci avete rubato nel corso degli anni è chiaro? fratelli e sorelle dell'Azzurro condividete questo video mi raccomando seguite la pagina Instagram andate a iscrivervi al canale YouTube e seguite anche la pagina malati di Inter della quale sono una delle amministratrici ricordatevi sempre che la vostra Lucri vi vuole bene e sempre forza Inter e forza Antonio Conte